Mi trovo in un luogo magico, in uno scrigno di tesori nascosto nel cuore, nel centro della nostra città. Sono nel cavo che conserva le centinaia dei ritratti dei benefattori della Cagranda, l'ospedale maggiore di Milano. L'ospedale maggiore è uno dei grandi vanti della nostra città, una istituzione radicata nel cuore e nell'anima di Milano che dal 1456, dal momento della posa della prima pietra da parte dei duchi Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, ha continuato a vivere, a crescere, ad agire nel centro di Milano come una delle sue più profonde, più importanti, più nobili identità. Un grande centro per la cura, l'assistenza, la salute, ma anche per la cultura della città, cultura scientifica, cultura medica, cultura architettonica, cultura sociale. Ed è proprio a questi temi che ci accingiamo a dedicare un ciclo di incontri, di conferenze multidisciplinari che avranno luogo nella chiesa dedicata all'annunciata al centro del complesso architettonico della Cagranda. È un appuntamento aperto a tutti i cittadini, voluto e organizzato dalla Fondazione Cagranda e dalla Fondazione Rotari per Milano. Incontri che ci porteranno a scoprire la storia dell'edificio e le storie dei milanesi che a questo edificio da secoli sono legati. Incontri dedicati all'architettura, all'arte, alla storia della medicina, agli sviluppi dei navigli, agli sviluppi anche di un territorio agricolo circostante la città e di cui tuttora la Fondazione Cagranda è proprietaria, è titolare. Quindi avremo tra la primavera e l'autunno una serie di appuntamenti che si svolgeranno con cadenza quindicinale il lunedì alle 21, alle 9 di sera. Il primo di questi appuntamenti sarà quello di saluto e di avvio del ciclo, quindi avrà un carattere introduttivo generale e sarà dedicato anche ad un grande capolavoro della pittura, lo sposalizio della Vergine di Raffaello, che ha avuto curiosamente un passaggio molto importante all'interno delle mura dell'ospedale maggiore. E quindi una lunga storia, un panorama che ci porta dall'età sforzesca all'età contemporanea attraverso vicende costruttive ma anche attraverso grandi tragedie come il bombardamento del 1943 che sembrava avere quasi cancellato l'edificio e dal quale invece questo grande monumento ha saputo risorgere per ritrovare il suo ruolo nel centro, nel cuore di Milano e nel cuore dei suoi cittadini.